L'accompagnamento al lavoro, oltre che aiutare i candidati nella ricerca di un impiego, facilita le aziende nella ricerca delle risorse professionali. Con il progetto NEXT, selezionato dal Fondo Repubblica Digitale e Impresa Sociale, l'accompagnamento al lavoro è composto da quattro fasi. Il sostegno completo fino alla nuova occupazione desiderata parte da una ricerca attiva del lavoro. Tutti i partecipanti al progetto saranno supportati da un team di esperti e riceveranno consigli pratici per individuare le opportunità di lavoro più idonee alle singole competenze ed ambizioni. Ed inoltre, attraverso la nuova piattaforma di job matching, domanda e offerta di lavoro si incontrano. In questo modo, le persone interessate possono accedere istantaneamente ad un ampio ventaglio di opportunità lavorative, mentre le aziende hanno accesso ad un numero maggiore di giovani talenti e ciò facilita l'individuazione dei candidati a seconda delle posizioni aperte. Per riaderenti a NEXT Professional è previsto anche uno stage garantito in azienda. La mission è quella di accrescere l'esperienza professionale e mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo. Altra grande opportunità è il tirocinio. Un periodo di orientamento di sei mesi in cui le nuove risorse si confronteranno con le dinamiche quotidiane dell'azienda e con i professionisti di settore. Grazie per la visione!